Va bene, Bill Ok, mettilo in prima Già fatto Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione Come diavolo... Non mi interessa, non fare cazzate Ok, Ellie, stai pronta Ora, schiaccia ora, schiaccia! Dall'altra parte, alla rotta a sinistra Ehi, al lavoro, ragazzina! Oh, merda Bene, siamo al costo Torniamo al camion Dobbiamo andare più veloci Dobbiamo arrivare alla collina Dobbiamo solo superare la cima Dietro quella casa Alla vostra destra Gioel! Lasciala stare Dai, abbiamo poco tempo Torniamo a spingere Davvero Terminata la giornata Gioel, lo sai Dall'altra parte a sinistra Dall'altra parte a sinistra La stessa è una tregua Raggiungiamo la collina Ok, Ellie, stai pronta Ok, Ellie, metti in moto Oh, sentito che roba, Bill Beh, significa che hanno sentito anche gli infetti Saliamo su Vai, vai Accelera Ok, qui va bene Ferma Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati Dai, ammettilo Ha saputo cavarsela prima Voi Non ce la farete Tieni Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina Grazie Ehi, Bill Riguardo al tuo amico È difficile E io Beh Siamo pari Siamo pari E allora vattene dalla mia città No, cazzo Ehi, non dovevi dormire Ok So che non si direbbe Ma questo è interessante da leggere C'è solo un problema Guarda qui Continua Puntini Odio la suspense Dove l'hai preso? L'ha preso da Bill Ehi, c'erano un sacco di cose sparse Che cos'altro hai preso? Beh Tieni Non ti fa venire nostalgia Ehi Ma questa è decisamente più vecchia di me Non è niente male Oh Dio Beh, meglio di niente Oh Sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte Non c'è molto da leggere Ma le foto sono interessanti No, Ellie Quello non è per bambini Uh Come diavolo fa A camminare con quel coso lì in mezzo Ehi, buttalo via Smettila Oh, stai tranquillo Voglio capire meglio Do solo un occhiatino Perché queste sono incollate? Ci sto solo prendendo in giro Ciao ciao amico C'è una cosa Non vale per niente Perché non proviato? Non sono stanca Oh, stai Buonanotte! Aiuto! Ti prego! Andiamo ad aiutarlo? Allaccia la cintura, Ellie. Ma scusa, è quel tizio? E neanche ferito. Alla prossima!